Oggi è il giorno dell'audizione dell'Avvocata dello Stato, Cristina Gerardis, nella Commissione regionale di inchiesta sulla discarica di rifiuti tossici di bussi sul Tirino. Gerardis, che è stata nella passata legislatura anche direttrice generale della Regione Abruzzo, ha ricostruito l'intera vicenda processuale e giudiziaria dinanzi ai componenti della Commissione e al Presidente Giovanni Legnini. Come professionista tra le principali a essersi occupata della complessa vicenda della mega discarica abusiva, per quasi 40 anni lo stabilimento Montedison di Bussi sul Tirino, esteso su 17 ettari, ha avvelenato l'acqua e il suolo per un totale di 500.000 tonnellate. La settimana scorsa è intanto entrato nel vivo il processo civile, secondo round di una battaglia giudiziaria ancora lontana dal concludersi. Ora occorre velocizzare la bonifica, ancora sospesa e per la quale si attende che il Ministero sblocchi finalmente i fondi. Siamo in attesa dell'ordinanza del giudice sulle istanze istruttorie e soprattutto sull'eccezione di prescrizione di Edison, che ha chiesto la sentenza breve sulla prescrizione, quindi è un momento particolarmente importante per il giudizio civile. Tra un mese esatto e il 5 marzo il Consiglio di Stato si pronuncerà inoltre nei confronti del ricorso di Edison dopo che il Tarrabruzzo aveva respinto l'altro ricorso della multinazionale della produzione di energia contro il provvedimento di bonifica che era stato richiesto dall'amministrazione provinciale di Pescara. Il Consiglio di Stato dovrà decidere se è corretta l'individuazione di Edison come responsabile della contaminazione di quelle aree che è stata impugnata. Il Tarrabruzzo Pescara ha già deciso favorevolmente all'amministrazione, ma siamo in attesa di questa decisione. Anche il Ministero dell'Ambiente è costituito ovviamente. Un'altra attesa è quello dello sblocco dei fondi per la bonifica. Sì, lì è una procedura amministrativa. Può darsi che l'attività di questa Commissione possa incidere favorevolmente nei confronti del Ministero dell'Ambiente. Il 10 febbraio la Commissione regionale d'inchiesta farà un sopralluogo nel sito della discarica Bussi. Renderci conto di persona, tutti i componenti della Commissione che lo vorranno, di qual è la condizione che persiste, che è fonte di preoccupazioni serie perché dalle audizioni già espletate, Arta in particolare, è emerso che gli agenti inquinanti continuano ad operare, continuano a rappresentare un rischio per l'ambiente e per la salute.